Buongiorno Perugia ha chiuso una corsia per lavori tra Foiano della Chiana e lo svincolo della A1 in direzione del raccordo Siena-Bettolle. Sul raccordo Siena-Firenze ha chiuso una corsia per lavori tra Poggi Bonzi e Cole Valdelsa Nord in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia ha chiuso la strada all'incrocio per la variante di Viareggio in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!